1991 dopo un lungo assedio l'armata popolare jugoslava entra a vukovar 1959 presentato ben ur in anteprima mondiale 1978 guiana francese jim jones guida la sua setta al suicidio commenta il fatto del giorno luigi vicinanza direttore del tirreno le sanzioni all'italia per l'invasione dell'etiopia sono la punizione appunto per questo atto di guerra sanzioni inefficaci allora come spesso anche oggi nel mondo moderno